220 bambini avranno presto la possibilità di andare al nido grazie a 6.888.000 euro di fondi del PNRR che il Comune di Pescara è riuscito a intercettare. Situazioni che sono già state messe in gara. La realizzazione completa delle strutture è prevista entro un anno e mezzo al massimo. Questa è la tabella di marcia del Piano Nazionale, ha commentato il primo cittadino Carlo Masci che ci ha permesso di aggiungere un altro tassello nelle opere pubbliche. Il 2023 verrà ricordato come l'anno della trasformazione di Pescara. Le strutture interessate dagli interventi saranno in via Lago Isoletta, via Santina Campana, via Rubicone, via della Fornace e Bizzari. Un po' di rammarico sui bandi che si aprono a un centinaio di possibili proponenti ha rimarcato Masci e che vedono però solo due al massimo, tre manifestazioni di interesse. Noi quasi raddoppieremo l'offerta per la nostra città di Asilinido, un numero molto importante, necessario per una città dove le famiglie lavorano e quindi hanno bisogno di servizi adeguati all'infanzia. Sono Asilinido all'avanguardia con tecniche innovative dove c'è stata molta cura anche dell'estetica, è molto verde, molti materiali ecosostenibili, ecocompatibili. E tra gli asili c'è quello contestato dai residenti di via Fornace e Bizzari che avrebbero voluto mantenere lì il parco. La sentenza del Consiglio di Stato di fatto ha dato ragione al Comune anche se ora manca il giudizio di merito atteso nell'udienza del prossimo 20 luglio. Credo che veramente siamo tranquilli da questo punto di vista. È chiaro che a noi dispiace dover scontentare qualche cittadino che aveva un'aspettativa rispetto a un'area che invece era destinata da piano regolatore e non da noi ma da chi ci ha preceduto anche in relazione all'accordo fatto per costruire quelle case dove oggi abitano le persone che contestano. E per non scontentare nessuno, le parole del Vice Sindaco e Assessore all'istruzione Gianni Santilli, non solo non toccheremo il verde ma sposteremo solo due alberi. E poi abbiamo promesso ai residenti, perché noi non vogliamo fare polemiche con nessuno, che a fianco ci sarà un'altra area verde e quindi creeremo un altro piccolo parco in modo da dare la possibilità tranquillamente ai bambini di frequentarlo. La futura scuola sarà forma di fiocco, un simbolo che unisce quasi a voler smorzare le polemiche e con l'amore per i più piccoli al primo posto. Da non dimenticare il progetto della grande Nuova Pescara che vedrà come titolari del diritto tutti i residenti che saranno in uguale misura pescaresi. Va da sé l'esigenza di creare quanti più posti possibili.